Le forze dell'ordine hanno eseguito un arresto nei confronti di un medico e di un suo amico all'epoca dei fatti, vice procuratore orario, accusati di aver perpetrato violenze e abusi nei confronti di alcune pazienti. Le donne ignare si recavano presso la struttura del Fatebene Fratelli di Benevento per una semplice visita medica. Tuttavia, secondo una prima ricostruzione, proprio in quelle occasioni i due avrebbero molestato le malcapitate, fatti che sarebbero inoltre aggravati dalle registrazioni effettuate con un cellulare nascosto all'interno dello studio. La vicenda è emersa nell'ambito di un'altra indagine portata avanti dalla Procura di Potenza. Gli uomini erano stati già condannati in primo grado, ma l'appello aveva dato loro ragione. Ora la sentenza della Cassazione, che ha disposto il fermo. Ancora attesa, invece, per la sentenza del Tribunale del Riesame, che dovrà pronunciarsi sugli altri reati contestati, tra cui l'esercizio abusivo della professione medica e la diffusione illecita di immagini con contenuto e sessualmente esplicito. Grazie.